Ho appena interroggito con la fabbrica del Duomo che mi ha comunicato la volontà di riaprire ai turisti in maniera contingentata una parte del Duomo. Come ben sapete le nostre ordinanze prevedono l'inibizione delle messe e quindi delle celebrazioni, non l'apertura delle chiese. Il Duomo chiaramente è una chiesa molto particolare che aveva un afflusso di turisti, giustamente era stata chiusa, viene riaperta in maniera molto gestita e quindi l'area turisti in ingresso del portone in maniera pochi alla volta, le terrazze in maniera ingressi scaglionati, chiudendo le biglietterie solo con le biglietterie online, cioè c'è la volontà di tenere fede all'obiettivo che ha ispirato i nostri provvedimenti che è quello di evitare gli assembramenti per in qualche modo contenere la diffusione del virus e dall'altro però chiaramente rendere fruibile un monumento nazionale come quello del Duomo e noi lo apprezziamo.